dopo i droni che consegnano champagne e i robot che scaricano bagagli negli alberghi sembrava di averle viste proprio tutte ma oggi si scopre che non è così i servizi turistici si automatizzano ancora di più con l'ultimazione del prototipo di robot concierge si chiama savi one un piccolo maggiordomo meccanico bianco leggero bassino senza braccia e senza gambe ma dotato di un'intelligenza artificiale spiccata partorito dai laboratori della savioc il concierge di metallo e fili elettrici sarà messo alla prova mercoledì prossimo nelle strutture di aloft hotel dotato di wifi tecnologia 4g sonar e telecamerina savi one è in grado di muoversi in autonomia all'interno degli edifici e delle stanze il robot monta sul viso un touchscreen attraverso cui dialoga con gli ospiti dell'albergo ha inoltre un comparto nascosto per consegnare asciugamani chiavi ed altri piccoli oggetti risponda alle esigenze del cliente senza chiedere mance grazie a tutti